Ciao a tutti, incontriamoci e questa volta siamo a Luxor Eventi Roma. Tanti amici che una alla volta poi vi presento e poi dopo li sentiremo nelle loro canzoni, gli attori nelle loro interviste. Intanto qui di fianco ho Stefano Tomassetti, un grande cantante che dà lusso alla canzone e adesso io gli chiedo, mi provo a che ci presenti oggi quella notte da Dimentica dedicato alla tragica tragedia del terremoto di Amatrice. Vi siamo vicini e speriamo che arrivi tutto ciò che vi manca e sempre al più presto, ve lo vogliamo di tutto cuore. Ma qual'è la canzone che più si ascolta? Intento che ero in una, il primo singolo che ho inciso. Il secondo è uscito l'estate scorsa per il giugno-lugno, è quest'amore che sta sempre suonando in silenzio. Perciò oggi è sempre con noi, grazie di essere intervenuto. Io vi lascio alla compagnia la bellissima voce di Stefano Tomassetti. Giochi e mi sorridi come se non fosse mai successo niente. Questa è quell'età che fa lasciare le tue lacrime la notte. Luce nei ricordi di quando la tristezza della gente tua non lasciava tregua mai, pregava sulla chiesa andata giù. Le case che chiamano la vita continuerà, ma come cancellare i forti brividi? Che forza ci vorrà e chi ti aiuterà? Per sole volatevi, tra nuvoro e grigie che non parlano di cieli, ma di polvere. di quella notte da dimenticare. Di quella notte da dimenticare. Crescerai sereno e piano piano il sole sarà ancora tuo, ma altri bambini no, non lo vedranno neanche dalla sole. Le case che chiamano la vita continua. Sui davanzani torneranno i fiori che profumeranno di normalità per te. Per sole volatevi, tra nuvoro e grigie che non parlano di cieli, ma di polvere. di quella notte da dimenticare. Di quella notte da dimenticare. di quella notte da dimenticare. Grazie a tutti.